Progetti per la parità genitoriale, la conciliazione della vita lavorativa e familiare e percorsi di crescita delle donne in ruoli dirigenziali. Coop torna a parlare di inclusione di genere con la terza edizione di Close the Gap. Riduciamo le differenze. Da quando abbiamo iniziato, in Casa Coop, nei nostri negozi, nella nostra organizzazione, l'inclusione e la parità di genere ha continuato a progredire. E questo è il primo risultato positivo, sempre più donne in ruoli di responsabilità. Attenzione importante ad aiutare le donne anche nel loro percorso di maternità. Per il congetto di paternità obbligatorio sosteniamo appunto la petizione Movimenta e che ora si arricchisce di una nuova entità, Girolamo Grammatico, che fanno sì che la petizione diventi ancora più importante. è su change.org e chiederà un congetto di paternità obbligatorio per tutti i padri almeno per 30 giorni. Le altre attività importanti che facciamo sono legate alla informazione e formazione perché per un cambio culturale come quello che riguarda l'inclusione e la parità di genere bisogna cambiare il nostro modo di approccio rispetto a una società che sta cambiando. Per il secondo anno Coop premia le aziende fornitrici più virtuose. Tre sono stati i riconoscimenti assegnati più una menzione speciale. Noi vorremmo davvero che tutti i nostri fornitori diventassero insieme a Coop parte attiva del cambiamento perché è un cambiamento che è come un'onda. Se arriva poi si può espandere in tutta la società. Novità di quest'anno è la cartolina per l'Iran, un'iniziativa a sostegno della popolazione iraniana. Chiederemo a centinaia di migliaia e speriamo anche di più, milioni di cittadini, di spedire una cartolina e di indirizzarla all'ambasciata iraniana, una cartolina che anche simbolicamente avrà i capelli di una donna con un taglio che sarà in qualche modo diventato il simbolo di questa lotta per la libertà delle donne in Iran. Drammatiche le stime di Amnesty International sui manifestanti vittime del regime. Dal 16 settembre si stima siano oltre 480, 71 almeno i minorenni, ma non parliamo di poco meno che 18 anni, parliamo anche dei bambini. 20.000 arresti, 4 condanne a morte già eseguite e complessivamente tra arrestati che rischiano la pena di morte, persone sotto processo per reati capitali e persone già condannate a morte, un centinaio rischiano ulteriormente l'impiccagione. È molto importante che lotte di questo tipo siano conosciute, si tenga l'attenzione su questo, che ci sia una pressione internazionale perché la repressione non vinca, perché si aprono degli spiragli di libertà e la mobilitazione delle persone è fondamentale perché anche i governi e le istituzioni facciano qualcosa di più forte e importante. Quest'iniziativa quindi la rivolgeremo direttamente alle autorità iraniane, ma anche alle autorità italiane e europee che devono fare di più per questa situazione, devono premere su quel paese perché si aprono dei percorsi diversi di libertà per le donne. Grazie a tutti.